Salve a tutti i giocatori e come promesso ecco il video con le combo da usare con il Cyber Dark prima di iniziare e vi informo che ci sarà anche un altro video oggi pomeriggio perché è uscita un'edizione speciale giapponese cioè uscirà il 25 dicembre che fa un po' l'occhiolino a un Duel Devastator 2.0 da noi ovviamente è l'edizione con la loro con i bustine ma probabilmente potrebbe essere riconvertito appunto in quell'edizione Duel Devastator detto questo vi ricordo tutti i link social in descrizione e partiamo appunto con le combo che potete utilizzare con il Cyber Dark partiamo con la prima che non necessita del Cyber Dragon Core partiamo con il Cybernetic Horizon quindi mandiamo al deck al cimitero un mostro Cyber Dark e un mostro luce dalla mano che al momento non ci serve questo è fatto apposta possiamo aggiungere dal deck alla mano un mostro quindi aggiungiamo il Cyber Dark Kill e mandiamo al cimitero il nostro Cyber Drago finale fatto questo possiamo attivare l'effetto del Cyber Dark Clue e aggiungere una qualsiasi carta magia che andremo poi a scartare per attivare l'effetto del Cyber Dark Chimera attiviamo anche l'effetto del Cyber Dark Cannon e ci aggiungiamo il Cyber Dark Hedge fatto questo possiamo evocare la nostra Cyber Dark Chimera attivare il suo effetto mandare al cimitero la nostra magia prendere il Power Bond ed attivare il suo effetto quindi attiviamo il Power Bond e grazie alla Dark Chimera possiamo utilizzare mostri anche al cimitero come materiali quindi evochiamo il Cyber Dark Ness Dragon togliamo i nostri 5 mostri attiviamo l'effetto non possiamo incatenare il Cyber Dark Chimera ma qui al momento non ci interessa equipaggiamo il Cyber Drago finale ed evochiamo semplicemente il Cyber Dark Ness Dragon mossa molto molto facile poi possiamo attivare il suo potere speciale equipaggiare un qualsiasi mostro lui può abitare altrettante volte poi guardiamo adesso la combinazione con il Cyber Dragon Core che è la più interessante evochiamo il Cyber Dragon Core attiviamo il suo effetto e ci aggiungiamo il Cyber Dark World dal deck alla mano attiviamo come sempre Cyber Nesson mandiamo al cimitero un mostro luce mettiamo un Attack Man Cyber e mandiamo un Cannon dalla mano quindi possiamo poi aggiungere e prendiamo un Cyber Dark Cannon che poi riattiviamo il suo effetto e ci mandiamo come sempre al cimitero il Cyber Drago finale poi attiviamo l'effetto del Cannon quindi lo rimandiamo al cimitero ci aggiungiamo un Cyber Dark Horn attiviamo l'effetto del Cyber Dark World che quindi ci aggiunge il mostro e in più ci permette di fare una normale addizionale quindi ci prendiamo un Cyber Dark Hedge attiviamo il suo effetto evochiamo Cyber Dark Chimera triggeriamo l'effetto di Cyber Dark Chimera quindi lo mandiamo al cimitero aggiungiamo la magia che andremo a scartare effetto quindi poi del Cyber Dark Chimera scartiamo l'inferno prendiamo il Power Bond attiviamo l'effetto del Power Bond tranquillamente adesso prendo i 5 mostri così velocemente quindi non è che vi dovete scartare quelli dalla mano anche se avete abbastanza mostri al cimitero attiviamo l'effetto non mi va di triggerare Chimera prendiamo Cyber Drago finale possiamo evocare il Darkness attivare il suo effetto equipaggiamo un mostro e a posto e stiamo a posto così questi erano i due consigli i due combo che potete fare ma ovviamente ce ne saranno di più poi più mettete carte esterne più il mazzo sarà consistente di per sé ovvio ma già il fatto che si può calare questo qui abbastanza tranquillamente è un'ottima cosa tanto alla fine lui è immune agli effetti attivati quindi è abbastanza difficile da buttare giù detto questo io magari mi scuso se se le carte non vanno fluide perché la potenza del computer è troppo bassa per registrare in HD quando c'è così tanto movimento quindi io chiedo perdono spero che comunque si riesca a capire che appreziate comunque lo sforzo poi se volete vi porterò anche la versione cartacea con le combo detto questo ci vediamo come sempre in un prossimo video che appunto porterò oggi e vado a registrare ragazzi un saluto a tutti